venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto in quattro partite finora giocate il cava united è imbattuto e non solo perché ha vinto due partite ne ha pareggiate due ma anche perché la porta metelliana è rimasta immacolata in un campionato come quello di seconda categoria in cui è così facile prendere gol i bianco blu allenati da sabato longino non ne hanno concesso neanche uno agli avversari hanno denotato compattezza e anche capacità nei recuperi di palla lo si è visto in particolare nell'ultima gara pareggiata dallo united per 0 a 0 a san pietro contro lo sporting club battipaglia che precedentemente veniva da sette gol fatti in tre gare così come si può vedere dai riflessi filmati è stata la squadra battipagliese ad attaccare con più insistenza nei minuti iniziali però col passare del tempo ha speso molto di conseguenza nella ripresa lo united ha giocato decisamente meglio la squadra di cava è attualmente in quarta posizione nel campionato di seconda categoria girone h con otto punti a due lunghezze dalle prime due in classifica la stella e la longobarda ma i metelliani non hanno ancora uno dei migliori attacchi del campionato visto che hanno segnato fino adesso solo due gol con senatore con lamberti e questa è ancora la loro nota dolente comunque lo united crescerà in brillantezza col passare delle partite si aspettano ad esempio ancora i gol di quadrano e di desiderio nel prossimo weekend il cava united proverà a colpire a dragonea dove giocherà per la quinta giornata del campionato i dragonesi hanno otto punti e sono imbattuti come i metelliani ma hanno più decisa vocazione al gioco d'attacco quindi sarà importante la concentrazione